Siracusa a strano odore da un fondo coltivava rigogliose piante di marijuana denunciato quarantenne. Nell'ambito dei servizi di sicurezza urbana disposta dalla costruzione di Siracusa continua in maniera incessante l'attività di contrasto allo sparcio di droghe. Nel corso di tale azione operativa, agente della volante transitando in via Marzaiola si sono insospettiti per uno strano odore verosimilmente assimilabile a quello della marijuana provenire da un fondo privato. I poliziotti intervenivano all'interno della proprietà di un uomo di 40 anni individuando e sequestrando tre piante di marijuana in fioritura e 400 grammi della stessa sostanza in fase di essiccazione. Il quarantenne è stato denunciato pertanto per il reato di coltivazione e spaccio di droga.